Buonasera a tutti e buona Pasqua! Volevo fare un video in cui vi ringraziavo ad uno ad uno per nome, poi mi sono reso conto che ci vuole più di mezza giornata per elencare 22.000 nomi e quindi magari lo faccio alla prossima festività, la prossima volta che vi devo dire grazie, mi prendo per tempo e lo facciamo. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di fly, ancora dite voi, ci hai già detto che vuol dire bottega, quando hai la bottega aperta, your fly is open, oppure to fly, volare, ecco ha un altro significato. Fly usato come aggettivo vuol dire cool, vuol dire awesome, vuol dire cool, ok? Stavo guardando questo programma americano che è un programma comico, ok? Nel quale questi rapper si sfidano a colpi di rime ed è successo questo. Ecco come avete visto è una specie di giochino nel quale la persona sul palco dice My friend is so fly, quindi il mio amico è così cool e il pubblico dice How fly is he? Quindi quanto è cool il tuo amico? Gli chiedono una domanda e lui gli racconta una barzelletta, qualcosa per fargli ridere, ok? Fly è una parola che è bene saperla perché fatalità mi è capitato a me di vederla, potrebbe capitare anche a voi, ma non l'ho mai usata in vita mia perché non parlo così, diciamo. Però è bene saperlo, insomma, così se lo sentite in giro sapete che cosa vuol dire. Vada Pasqua! Vada Pasqua! Vada Pasqua!